12 edizioni Siciliano Premier. Taormina è una tappa fondamentale perché è stata la prima tappa che ha sancito il giro per tutti i territori enologi siciliani. Sicuramente i temi dell'Expo sono i temi che abbiamo sempre portato avanti, biodiversità, sostenibilità. Su questo faremo un'apertura parlando della vendemmia 2014 che per noi è stata una fra le vendemmie migliori degli ultimi 20 anni. Parleremo di sostenibilità, quale è il nostro obiettivo importante per il futuro. La Sicilia sarà protagonista come capofila di questo cluster biomediterraneo che vede insieme i paesi del Mediterraneo e vede insieme soprattutto la biodiversità. Se pensiamo che la biodiversità altro non è che tutta questa espressione di carattere vegetale e culturale con cui noi siamo riusciti a realizzare il meglio delle nostre produzioni a partire dalle produzioni enologiche, è chiaro che il ruolo della Sicilia per la valorizzazione della biodiversità della vita ma non solo ma anche quella dell'olivo, quella del grano, quella dei dolci, quella di tutte le produzioni siciliane in maniera tale che possiamo creare la costruzione, lavorare la costruzione di questo brand del Mediterraneo di cui la Sicilia è capofila ma soprattutto coniugato con quella che è la dieta mediterranea che è patrimonio dell'UNESCO ed è sicuramente un brand a lanciare al mondo intero. In grande crescita la Dox Sicilia e con questa si cerca davvero di portare valore, di portare reddito al mondo della produzione siciliana. L'Expo è una grande occasione, unica, riteniamo che per la mia generazione sia la sola possibilità di averlo in Italia e quindi dobbiamo sicuramente fare il massimo per dare visibilità alle nostre produzioni. Il binomio vino e turismo è importantissimo, poi la Sicilia quest'anno punta sul turismo relazionale e quindi su tutto ciò che è legato all'identità dei luoghi, alla cultura, alla sua storia e alla sua tradizione. E' molto importante che da Sicilia in primer luogo dove sarà raccolta stampa internazionale proveniente da tanti paesi sia narrata la storia della Sicilia, i luoghi della Sicilia e sia creata un'attrattività della Sicilia anche attraverso la storia del vino. Questo potrà aiutare anche gli produttori di vino ad aumentare le loro capacità di export. Questa alleanza col mondo del vino non può che continuare perché abbiamo iniziato assieme questo lavoro, ci crediamo fermamente e abbiamo constatato che di anno in anno i risultati per l'immagine delle aziende vitivinicole, ma più in generale della Sicilia nel mondo, sono sempre più consistenti. E' chiaro che un istituto bancario come il nostro, che vuole lo sviluppo del territorio dove opera e che si attiva per questo, non può che essere vicino e sempre lo sarà ad iniziative di questo tipo.